mamma ragazzi che roma roma tottenham pareggi in casa del tottenham in inghilterra e qua non era scontato non era scontato la roma torna quantomeno a fare una prestazione di calcio forse la miglior roma della stagione già sulla carta e con qualche giocatore ritrovato come ad esempio di balla al primo minuto per quanto sia uscito poi alla fine del primo tempo con un sele makers che è entrato c'è veramente non tanto tantissimo secondo me di cui parlare ben ritrovati questo nuovissimo video io penso che prima di che nel video in cui parlavo di della nuova roma di danieri avevo detto che secondo me questa roma poteva nel filotto di tre partite tra napoli tottenham e atalanta vincerne o quantomeno fare una buona prestazione contro una ecco forse questa è stata quella con la roma e col tottenham ma devi partire da una base ovvero la formazione sfidare in porta dica hummels mancini angeligno con i paredes silik e il sharawi di bala alle spalle di artem dopik allora la roma secondo me è stata veramente tanto sfortunata tanto tanto sfortunata perché sono arrivati tre gol sono arrivati tre gol sì ma in fuorigioco alcuni ma partiamo all'inizio un rigore che arriva su una classica cappellata di hummels che per ora non ne aveva fatta mezza giusta cioè a dire con con la roma però non ne aveva fatta mezza giusta oltre poi al gol e alla prestazione perché comunque c'è da analizzare perché hummels aveva giocato prima di questa due partite aveva fatto contro la fiorentina e c'era fatto autogol contro il napoli è costato il gol con lukaku e adesso subito regala un rigore al tottenham che viene trasformato rigorosamente dai minson ma il vero problema ragazzi di questa roma mi viene a dirlo ancora una volta sono proprio le fasce allora non tanto oggi allora angelino ne voglio parlare tra un po ma selic zio prete ragazzi selic ha speramente sofferto tantissimi in minson ma veramente di tantissimo ma allo stesso tempo dall'altra parte c'è una difesa con pedro porro dragogin davis e archi gray che non è la difesa forte e infatti si è visto perché questa roma ha veramente fatto una grandissima partita secondo me la partita la roma l'ha giocata molto bene a centrocampo con uno che era stato ormai messo avete ricordato il 2012 se non sbaglio il celsi che vince la champions league con di matteo che aveva messo praticamente fuori rosa frank lampard ashley cole e se non sbaglio john terry ecco pare di essere uno di quelli insieme a hummels e qualcun altro messo praticamente fuori rosa dalle gerarchie di juric ecco pare di soggy giocare una partita straordinaria straordinaria e infatti è per questo che pare di sposervire perché c'è uno come con e che allo stesso momento abbastanza fisico ma che comunque può andare verso verso la fase offensiva e lasciare pare di si indietro ecco pare di si ha fatto un partitaso poi arriva il gol arriva l'una uno con dica arriva il due a uno con el sharawi annullato per un fuori gioco poi arriva anche il gol di brennan johnson con lui che va veramente a imbucare tanto la sulla sinistra angelini aveva già salvato un pallone che era praticamente dentro oggi forse svilare l'uomo della partita mi viene a dire perché comunque svilare è stato clamoroso ancora una volta svilare si dimostra essere veramente non solo la luce nel buio di questa roma che forse qualcosa sta rivedendo e che forse lo spirito di un allenatore come claudio ranieri che non è solo esperto ma che è un tifoso che è un uomo di città è un uomo di roma uno di un vero tifoso chiamiamolo così di questa squadra forse può veramente riaccendere la miccia in questa roma la miccia soprattutto che si sta vedendo nella spaccatura tra giocatori e non all'avviatore ma tra giocatori e forse anche la società ma soprattutto verso i tifosi sempre più fischiati i giocatori ma in in compenso comunque angelini ha sofferto un po anche brendan johnson cioè ci sono stati veramente momenti in cui angelino poteva essere veramente pisciato addosso da tutti ma in generale questa roma è stata abbastanza sfortunata mi viene a dire perché dopo il primo tempo che comunque si era stato giocato bene ma poi diciamo che si era andato un po a crollare nella prestazione il secondo tempo è stato un secondo tempo veramente con due coglioni molto grossi mi viene a dire scusate il francese perché la roma trova trova il gol solo alla fine con con umels ma è stata un partita oltre che veramente divertente ma una partita da parte della roma veramente buona cioè fatico a trovare giocatori che hanno fatto male dovvick per quanto gli c'è per quanto che cazzo gli siano stati annullati due gol il che è veramente brutto cioè farsi annullare due gol è veramente pesante secondo me è veramente pesantissimo anzi ma è una roma che si vede veramente con una reazione che si vede che vogliono giocare e forse questa volta si può dire che andavamo contro l'allenatore ma comunque voglio un attimo cercare tutti i gol annullati alla roma perché se non sbaglio sono tre più una traversa e un miracolo di foster che è veramente pazzesco secondo me allora andiamo a cercare fuori gioco con aspetta non lo riesco a trovare non riesco a trovare i gol ma comunque in generale è stato veramente ha gasato tantissimo questa roma ha veramente gasato tanto perché proprio è una roma con uno spirito chiamiamolo così diverso perché io ho detto che secondo me sarà difficile ovviamente è impossibile arrivare in champions league è impossibile fare molto molto bene in questa stagione però secondo me comunque l'europa si può azzannare e l'europa league e la coppa italia possono essere veramente un obiettivo non tanto l'europa league perché l'europa league è una competizione molto difficile cioè ci sono il porto c'è il mercedes united c'è una squadra come il ferro erba c'è il garatasaray lo stesso tottenham lì il lione ci sono squadre veramente molto insidiose ma soprattutto la coppa italia questa roma potrebbe decidere magari di accontentarsi un nono decimo posto in campionato per puntare tanto sulle coppe e oggi abbiamo visto comunque in generale una reazione forse proprio anche i tifosi che io non mi aspettavo fossero veramente così tanti erano tantissimi secondo me scontando scusate un attimo che è un che è un turno di europa league in trasferte in inghilterra non stiamo parlando di una partita in svizzera stiamo parlando di un inghilterra ma comunque è una roma che si vede che ha voglia che ha più voglia il problema resta sempre che un cazzo di esterno il centrocampo manca e forse invece questa volta è arrivato perché ragazzi alexis salemakers salemakers forse potrebbe essere la carta di questa di questa roma e vi spiego salemakers è l'esterno a tutto campo a tutta fascia veramente perfetto che io onestamente alla juve avrei preso quel veramente felicissimamente mi viene a dire perché salemakers è veramente un jolly cioè si può usare molto bene a centrocampo perché sa fare discretamente bene la fase difensiva sa fare molto meglio fase offensiva trattato selic non sa fare né una nell'altra mettiamola così e secondo me potrebbe essere veramente la carta aggiunta a questo salemakers oggi c'è una roma che ha dato una reazione una roma che ha fatto vedere che ha dato un segno ai tifosi che ci sono una difesa con dica mancini e umers molto buona con svilar mancini indica che sono che si trovano soprattutto mancini a dover fare gli straordinari perché c'è un coglione un mongoloide mi viene a dire come selic sulla fascia e la roma si interviene bene nel mercato di gennaio che comunque tra poco perché tra un mese neanche neanche un mese e mezzo un mese qualche giorno un mese una settimana neanche comunque potrà secondo me fare veramente bene la roma adesso deve continuare su questo spirito di positività perché tanto peggio di così non può andare ma quantomeno bisogna essere positivi e cercare di dare continuità non solo nei risultati perché comunque il pareggio è un bel risultato contro il tottenham ma soprattutto dare continuità nel senso di prestazioni perché comunque questa roma deve cercare queste prestazioni deve cercare queste prestazioni con le palle ciò non toglie che la roma abbia meritato di perdere non avrebbe meritato di vincere è stata una partita straordinaria bellissima per quanto mi riguarda il che mi capita poche volte di dirlo soprattutto con la roma prossime di europa league per la roma sono contro il braga e poi chi c'è c'è la zed al mar al mar e l'eintracht frankfurt quindi tre sfide dove è complicata c'è la più semplice quella contro il braga e la più complicata forse quella contro il frankfurt anche se quella la trasferta in olanda con la zed non è da sottovalutare ma adesso c'è veramente da far vedere che questa roma c'è e lunedì secondo me potrà dire la sua contro l'atalanta comunque io vi saluto ci vediamo forse domani o forse dopo domani direttamente vediamo ciao